Capita a volte che chiedete come fanno ad illuminarsi al tramonto le nuvole nella parte bassa. Attraverso la pagina Indice Alfabetico avete a disposizione altre tre voci che spiegano le nuvole illuminate dal basso oltre al video Rainier Monte che spiega il motivo del perché alcuni giorni all'anno, ma solo alcuni giorni all'anno, avvengono determinate illuminazioni. Quelli che andiamo a vedere sono 4 video in timelapse di 25 minuti. La luce del sole si riflette sull'acqua per oltre un'ora dopo che il sole ha lasciato la nostra visuale angolare. Se pensate che le nuvole vengano illuminate dalla luce diretta del sole non avrete fatto abbastanza attenzione. Le cime delle nuvole sono ancora illuminate in alto di colore bianco mentre sotto sono illuminate di rosso a destra dopo che il sole se ne è andato. Basta osservare queste nuvole per capire che non è la luce diretta del sole che le illumina nella parte bassa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.